Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Preghiamo. Padre Celeste, veniamo alla Tua presenza con lamenti e meraviglia, perché Tu sei il Grande Dio. Sei il Dio sopra tutti gli dèi. Sei il Creatore, il Redentore, il Sostenitore. Ci hai dato la Tua Santa Parola per avere certezza in questo mondo confuso. Come apriamo la Tua Parola, chiediamo la presenza del Tuo Spirito Santo, come studiamo i segreti della finanza del santuario. Chiediamo guida divina e menti aperte. Grazie per ascoltare le nostre preghiere nel nome di Gesù. Amen. Deuteronomio, capitolo 8, versi 17 e 18. Si parla di Israele, dell'ingresso nella terra promessa, e di Dio che li avverte. Guardati dunque dal dire nel tuo cuore, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, perché è Lui che ti dà la forza per acquistare ricchezze, per mantenere il patto che giurò ai tuoi padri come è oggi. Questo versetto esprime un principio molto importante, cioè è Dio a darci il potere per acquistare ricchezze. Inoltre, altri passaggi della scrittura chiariscono che la ricchezza che accumuliamo non è nostra perché tutto appartiene a Dio. Salmi, capitolo 24, verso 1. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Cioè, noi non possediamo nulla. Dio ha dato un modo per ricordare che Lui è il proprietario e noi siamo i Suoi amministratori. Dio ci ha dato una prova e questa prova riguarda la decima. La decima è il metodo che Dio usa per metterci alla prova, per vedere se riconosciamo che tutto ciò che abbiamo in realtà appartiene a Dio. Prima di tutto, vorrei guardare al sistema della decima nel sacerdozio levitico dell'Antico Testamento. Inizieremo con questo. Levitico, capitolo 27, verso 30. E poi salteremo al versetto 32. Ogni decima della terra, sia dei prodotti del suolo che dei frutti degli alberi, appartiene all'Eterno. È cosa consacrata all'Eterno. E per la decima della mandria e del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga sarà consacrato all'Eterno. Questi versetti ci dicono chiaramente che la decima è santa e appartiene al Signore in un modo molto speciale. Per cosa doveva essere usato il denaro della decima? Andiamo a numeri, capitolo 18, verso 20. Sappiamo che Israele era composto da dodici tribù. Cioè, ogni tribù di Israele ricevette una porzione di terra da distribuire tra le diverse famiglie. Ma la tribù di Levi non ricevette alcuna terra, alcuna eredità nella terra di Canaan quando Israele entrò nella terra promessa. Quindi, come potevano sostenersi i Leviti? Numeri, capitolo 18, verso 20. L'Eterno disse ancora ad Aronne Tu non avrai alcuna eredità nel loro paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo ai figli di Israele. Che scopo avevano le decime date ad Aronne e a Levi? Numeri, capitolo 18, verso 21. Io do come eredità tutte le decime in Israele. Fermiamoci un attimo. Chi ha dato la decima a Levi? Dio. Quindi, è Dio che ha pagato Levi. In chiesa, è diventato molto comune trattenere la decima se non gli piace il pastore. Si dice, noi ti paghiamo lo stipendio. Questo testo, però, ci dice che non sono i membri della chiesa a pagare lo stipendio del pastore, ma è Dio a pagarlo. Questo testo lo dice chiaramente. Ecco, ai figli di Levi io do come eredità tutte le decime in Israele in cambio del servizio che svolgono. Il servizio della tenda di convegno. Cioè, essi soddisfacevano i bisogni spirituali di Israele. E dato che erano impegnati a tempo pieno nel soddisfare i bisogni spirituali di Israele, Israele avrebbe dovuto portare la decima e Dio pagava i Leviti con la decima. Leggiamo anche numeri capitolo 18 verso 24. «Poiché io do come eredità ai Leviti le decime che i figli di Israele presenteranno all'Eterno come offerta elevata. Per questo ho detto loro non avranno alcuna eredità tra i figli di Israele». Chi ha dato la decima ai Leviti? Sì, i membri della chiesa portavano la loro decima nel santuario nel Tempio ma in realtà è Dio che li pagava per il servizio spirituale reso alla congregazione di Israele. In Levitico 18 c'è un dettaglio interessante cioè che anche i Leviti decimavano la decima. Leggiamo Levitico capitolo 18 verso 26. Cito «Parla ai Leviti e di loro». Quando prenderete dai figli di Israele le decime che io vi do da parte loro come vostra eredità ne farete un'offerta elevata all'Eterno una decima della decima. Quindi notiamo che non è solo la congregazione a dare la decima ma anche i Leviti dovevano decimare la decima perché i Leviti erano ministri di Israele quindi dovevano dare il buon esempio. E se il sacerdote si corrompeva? La Bibbia dice che ci sono stati periodi in cui i sacerdoti di Israele erano molto corrotti e la congregazione sarebbe stata probabilmente tentata di dire perché dovremmo dare la decima a quella gente se sono degli apostati? Malachia capitolo 1 verso 6 poi leggeremo il versetto 8 Un figlio onora il padre e un servo il suo signore se dunque io sono padre dov'è il mio onore? Dice Dio e se sono signore dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti a voi sacerdoti che disprezzate il mio nome eppure dite in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome? verso 8 Dio chiede quando offrite in sacrificio un animale cieco non è male quando offrite un animale zoppo o malato non è male presentalo dunque al tuo governatore sarà soddisfatto di te ti accetterà con favore dice l'Eterno essi offrivano sacrifici malati zoppi e ciechi disprezzavano il nome del signore e non lo rispettavano infatti non insegnavano nemmeno la legge alla gente non stavano predicando ciò che dovevano predicare Malachia capitolo 2 verso 7 e 8 poiché le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza e dalla sua bocca uno dovrebbe cercare la legge perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti voi invece vi siete allontanati dalla via avete fatto inciampare molti nella legge avete violato il patto di Levi dice l'Eterno degli eserciti continuando a leggere il libro di Malachia noterete che le persone erano in una pessima condizione spirituale e gran parte della colpa era dei sacerdoti che non insegnavano e predicavano ciò che avrebbero dovuto e offrivano come ho detto sacrifici zoppi e malati sacrifici ciechi e così via quindi potresti aspettarti che Dio dice non pagare la decima a loro non lo meritano ma è interessante che proprio nel libro di Malachia con tutta questa descrizione di un sacerdozio problematico Dio dice cose molto interessanti sulla decima Malachia capitolo 3 verso 7 cito fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati poi Dio chiama Israele cito tornate a me e io tornerò a voi dice l'eterno degli eserciti ma voi dite in che cosa dobbiamo tornare ora c'è un passaggio interessante Dio dirà loro in che modo devono tornare e la parola ritorno è la parola che nell'antico testamento è tradotta come convertito Malachia capitolo 3 versi 8 e 9 un uomo deruberà Dio eppure voi mi derubate e poi dite in che cosa ti abbiamo derubato nelle decime e nelle offerte voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate sì tutta quanta la nazione quindi loro non stavano dando la decima nel modo richiesto quindi c'è un sacerdozio corrotto e la gente non dà la decima forse perché i sacerdoti sono corrotti anche dopo aver parlato dell'apostasia di Israele che derubavano Dio nella decima e nelle offerte vediamo cosa dice Dio Malachia capitolo 3 verso 10 portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa e poi mettetemi alla prova in questo dice l'Eterno degli eserciti se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla cosa Dio dice al suo popolo anche se non pagano la decima e hanno un sacerdozio corrotto che serve nel santuario Dio non dice non dare la decima ma dice di portare tutte le decime alla casa del tesoro la casa del tesoro è un luogo nel tempio dove venivano portati i sacrifici e la decima e venivano immagazzinate per pagare il servizio dei leviti prima cronaca capitolo 26 verso 20 dei leviti Ahija era preposto ai tesori della casa di Dio e ai tesori delle cose consacrate le cose consacrate sono le cose sante che Israele portava nel santuario quindi nel santuario c'era un posto dove venivano immagazzinate le decime per remunerare i leviti per il servizio fatto ai figli di Israele per molti cristiani è normale dire pastore la decima valeva solo per l'antico testamento valeva solo per Israele interessante per tutto ciò che richiede un sacrificio i cristiani dicono che riguardava gli ebrei ad esempio osservare il sabato o un giorno intero non posso fare la spesa non posso guardare il basket o il calcio no il sabato era per gli ebrei poi gli parli del vivere sano senza carne di maiale gamberi e aragoste e dicono no 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 era per gli ebrei avevano un sistema digestivo diverso dal nostro poi c'è la decima restituire il 10% del Signore per dimostrare che Lui è il proprietario no valeva solo per gli ebrei così i cristiani dicono devi solo credere ma il Nuovo Testamento ripete l'idea che la decima serve per pagare i ministri che operano a tempo pieno per la causa di Dio prima Corinzi capitolo 9 dal verso 1 al verso 3 in questi versetti l'Apostolo Paolo dice che il frutto del suo lavoro sono i Corinzi loro sono la prova che Dio lo ha chiamato come apostolo e ministro leggiamo dal verso 1 al 3 l'Apostolo Paolo dice non sono io non sono io non sono io libero non ho io veduto Gesù Cristo il nostro Signore non siete voi la mia opera nel Signore cioè ha lavorato per vincere i Corinzi al Vangelo se non sono apostolo per gli altri senza dubbio lo sono per voi poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo cioè alcuni dicevano che Paolo non era stato chiamato al ministero Paolo dice che la conversione dei Corinzi che accettano il Vangelo dimostra che lui è stato chiamato come apostolo ora leggiamo prima Corinzi capitolo 9 dal verso 4 al verso 6 ora Paolo discuterà di una questione molto spinosa sembra che l'apostolo Paolo e Barnaba fossero in viaggio e sappiamo che Paolo doveva fare tende per mantenersi cito non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere parla di lui e Barnaba non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede cioè non possiamo in viaggio portarci le mogli come fanno anche gli altri apostoli i fratelli del Signore e Cefa cioè Pietro o soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di riposarci cioè lui dice non possiamo Barnaba e Dio beneficiare del sostegno finanziario della Chiesa dato che dobbiamo lavorare per godagnare soldi poi l'Apostolo Paolo dice usando quattro diverse analogie che è necessario che chi lavora nella predicazione del Vangelo sia remunerato per il suo lavoro spirituale prima Corinzi capitolo 9 verso 7 userà quattro analogie cito chi mai va alla guerra a proprie spese immagina che il tuo governo ti dica ora andrà in guerra ma devi pagarti il cibo i vestiti e devi pagare per l'alloggio e per le armi così non si arruolerebbe nessuno chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto logico no terza analogia o chi si prende cura di un greggio e non mangia del latte del greggio capite le tre analogie andare in guerra piantare una vigna e gestire un greggio poi lui dà la quarta analogia e la amplifica ancora di più prima Corinzi capitolo 9 verso 8 e 9 dico queste cose secondo l'uomo cioè dice è solo la mia opinione umana poi dice non dice queste cose anche la legge nella legge di mosee infatti sta scritto non mettere la museruola al bue che trebbia perché no perché il bue lavora per trebbiare il grano e ha il diritto di mangiare il grano vediamo cosa dice Dio si dà forse pensiero dei buoi cioè Dio dà questa legge perché era preoccupato che i buoi potessero mangiare perché lavorano ovvero dice tutto questo per noi certo queste cose sono scritte per noi perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera lui dice che chi predica il vangelo deve essere pagato perché lavora per predicare il vangelo notate prima corinzi capitolo 9 versi 11 e 12 dove chiarisce il suo ragionamento cito se noi apostoli che predichiamo se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali è forse gran cosa se miettiamo i vostri beni materiali capite cosa intende cioè se vi serviamo per i bisogni spirituali è troppo chiedervi di soddisfare i nostri bisogni materiali verso 12 se gli altri hanno tale diritto su di voi non l'avremo noi molto di più noi però non ci serviamo di questo diritto ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo i prossimi due versi sono fondamentali perché trattano del santuario e questa è una serie sul santuario lui si riferirà ai Leviti e lo applicherà a chi predica il Vangelo ai tempi del Nuovo Testamento prima Corinzi capitolo 9 verso 13 cito non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro cioè i sacerdoti i Leviti non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio parla delle decime che sono state portate e quelli che servono all'altare erano i sacerdoti a servire all'altare e quelli che servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare così pure come allora non dice che il Signore raccomanda o suggerisce dice il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo lui dice che la decima è anche un principio del Nuovo Testamento e continuando a leggere ora non lo faremo ma potrete leggere dal verso 15 al 18 l'Apostolo Paolo dice io non ho chiesto che questo diritto fosse applicato a me io costruisco tende perché se ricevessi denaro per predicare il Vangelo i miei nemici direbbero che predico per denaro quindi dice io sono un missionario autosufficiente ma dice ciò non significa che tutti coloro che predicano il Vangelo debbano essere missionari autosufficienti perché dice molto chiaramente che chi condivide il Vangelo deve vivere del Vangelo e ciò avveniva attraverso la decima ora notiamo che il libro degli ebrei dice che il sacerdozio dei leviti fu abolito quando Gesù morì sulla croce così alcuni cristiani dicono se il sacerdozio è stato abolito alla croce allora significa che è stata eliminata anche la decima per pagare i sacerdoti leggiamo questi testi che parlano della fine del sacerdozio levitico ebrei capitolo 7 verso 18 e 19 si confronta il sistema del nuovo testamento con l'arrivo di Cristo e il sistema di offerte e sacrifici dell'antico testamento in base al contesto si tratta degli ordini riguardanti i sacerdoti non i comandamenti di Dio in esodo capitolo 20 cito sia così l'annullamento del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità la legge infatti non ha portato nulla a compimento quando dice legge in base al contesto è la legge sacerdotale è l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio quindi il vecchio sistema i vecchi comandamenti che avevano a che fare con il sacerdozio erano stati annullati a causa della loro debolezza e inutilità numeri capitolo 18 verso 21 chiarisce che erano i leviti a ricevere la decima rileggiamolo perché è importante ecco ai figli di Levi io do come eredità tutte le decime in Israele in cambio del servizio che svolgono il servizio della tenda di convegno il ragionamento usato da molti cristiani è il sacerdozio levitico fu eliminato quando Gesù morì sulla croce e dato che il sacerdozio levitico fu eliminato quando Gesù morì sulla croce anche i fondi che le persone dovevano portare per pagare quel sacerdozio furono eliminati sulla croce tutto ciò sembra molto logico anche per me ma ora vi mostrerò biblicamente che anche se il sacerdozio levitico è finito e non c'erano più sacerdoti levit il principio della decima persiste ancora andiamo a Genesi capitolo 14 la storia che troviamo in Genesi capitolo 14 è stata scritta o è accaduta 500 anni prima che fosse stabilito il sacerdozio levitico questo è un punto importante accade tra il 1900 e il 2000 prima di Cristo il sacerdozio levitico fu stabilito verso il 1445 avanti Cristo quindi questa storia accade 500 anni prima del sacerdozio levitico nella storia in Genesi capitolo 14 quattro re si alleano per andare a combattere contro il re di Sodoma naturalmente Lot viveva a Sodoma così questi quattro re riuniscono le forze vanno a Sodoma la conquistano prendono dei prigionieri compreso Lot saccheggiano la città e prendono tutti i beni della città quando Abrahamo ne viene a conoscenza dice devo andare e devo salvare Lot e devo anche riportare tutti quei beni così radunò 318 uomini scelti con molta cura per combattere contro quei quattro re per riportare Lot e i beni lui ha successo vince questi re riporta Lot riporta tutti i beni che sono stati rubati e sulla via del ritorno incontra una figura misteriosa che sembra apparire e poi scomparire dal racconto biblico il suo nome è Melchisedec molto interessante che ci fosse un sacerdozio prima del sacerdozio di Levi era il sacerdozio di Melchisedec notate Genesi capitolo 14 verso 18 allora Melchisedec re di Salem portò pane e vino interessante quando usiamo pane e vino li usiamo alla santa cena apparentemente questo è un tipo o simbolo della santa cena cito allora Melchisedec re di Salem portò pane e vino egli era sacerdote del dio altissimo c'è un sacerdozio prima del sacerdozio levitico vediamo come continua la storia ricordate che ciò accade 500 anni prima che il sacerdozio levitico venga stabilito genesi capitolo 14 verso 19 parlando di Melchisedec e Melchisedec benedisse Abramo dicendo benedetto sia Abramo dal Dio altissimo padrone dei cieli e della terra cos'è il Dio altissimo è il padrone è il padrone dei cieli e della terra significa che è il proprietario del cielo e della terra cosa fece immediatamente Abrahamo notate cosa troviamo in Genesi capitolo 14 verso 20 cito è benedetto sia il Dio altissimo parla a Melchisedec che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici ora si parla di Abrahamo e Abramo gli diede la decima di ogni cosa dato che Dio è il possessore del cielo e della terra Abrahamo riconosce che doveva restituire fedelmente la decima al sommo sacerdote Melchisedec quindi il sacerdozio esiste prima del sacerdozio levitico la decima esisteva prima del sacerdozio levitico secondo la Bibbia non fa parte della legge mosaica ma la precede ora cosa rappresenta il sacerdozio di Melchisedec è interessante che Gesù fosse della tribù di Giuda essendo della tribù di Giuda Gesù non aveva il diritto di essere sommo sacerdote lui aveva il diritto di essere re ma non sacerdote Gesù non poteva essere sacerdote secondo l'ordine di Aaron perché Aaron è della tribù di Levi lui doveva essere sacerdote da un ordine diverso secondo l'ordine di Melchisedec Melchisedec gli dà il diritto di essere sacerdote e Giuda gli dà il diritto di essere re capite? notiamo salmi 110 verso 4 l'eterno l'eterno ha giurato e non si pentirà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Aaron no secondo l'ordine di chi? di Melchisedec ebrei capitolo 6 versi 19 e 20 qui l'apostolo Paolo che credo abbia scritto il libro di ebrei dice questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fin nell'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec ebrei capitolo 7 verso 17 si parla di Gesù infatti la scrittura afferma tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec c'è il sacerdozio di Levi che riceveva la decima e quel sacerdozio è finito ma abbiamo un altro sacerdozio il sacerdozio di Melchisedec e quel sacerdozio dura per sempre entrambi i sacerdozi ricevevano la decima il sacerdozio di Aronne che finì riceve la decima ma anche il sacerdozio di Melchisedec riceve la decima quindi la decima precede il sistema levitico è qualcosa che dobbiamo fare per sempre perché il sacerdozio di Cristo è per sempre ora l'argomento di Ebrei capitolo 7 è molto complicato quindi permettimi di analizzarlo lentamente affinché lo possiate comprendere in Ebrei capitolo 7 dal verso 4 al 10 c'è un ragionamento oggi noi non ragioniamo in questo modo questa però è scrittura ispirata e possiamo fidarci di essa Melchisedec è più grande di Abrahamo in due modi uno perché Melchisedec benedice Abrahamo e chi benedice è più grande due Melchisedec riceve la decima da Abrahamo e non viceversa state attenti Levi era un discendente di Abrahamo sicuro Levi era figlio di Giacobbe e Giacobbe era figlio di Isacco e Isacco era figlio di Abrahamo ascoltate attentamente il ragionamento Levi era nei lombi di Abrahamo perché è suo discendente quando Abrahamo diede la decima a Melchisedec di solito non ragioniamo così ma questa è la logica dato che Levi discende da Abrahamo quando Abrahamo diede la decima a Melchisedec la diede è anche Levi quindi è più grande il sacerdozio di Melchisedec ma il ragionamento continua quando Abrahamo diede la decima a Melchisedec Levi stava dando la decima a Melchisedec attraverso Abrahamo dato che i Leviti davano la decima a Melchisedec attraverso Abrahamo e Abrahamo fu benedetto da Melchisedec il sacerdozio di Melchisedec è più grande del sacerdozio dei Leviti così oggi la decima vale ancora perché c'è un sacerdozio che è più grande del sacerdozio dei Leviti è sempre un sacerdozio il sacerdozio di Cristo e c'è anche la decima perché nell'Antico Testamento Melchisedec riceve la decima quindi il principio della decima vale ancora per i cristiani di oggi non necessariamente secondo l'ordine di Aaron ma secondo l'ordine di Melchisedec che è un sacerdozio più grande del sacerdozio di Levi parliamo della decima in termini pratici la chiesa di Fresno riceve circa 1.2 milioni di dollari in decima all'anno ma la chiesa centrale di Fresno non ha un centesimo di quei soldi l'1.2 milioni vanno all'ufficio centrale a Covis il denaro è usato per pagare tutti i pastori della zona centrale della California alcuni di voi probabilmente pensate sbagliato se abbiamo abbastanza decima per pagare dieci pastori perché abbiamo solo due pastori pagati dai fondi della conferenza ora ve lo dico e non mi sto lamentando è perché altre chiese non hanno abbastanza decima per pagare un pastore così le chiese che hanno una decima più abbondante aiutano le chiese più piccole affinché le chiese più piccole abbiano un aiuto pastorale è generoso Dio vuole che i forti aiutino i deboli così la chiesa centrale di Fresno non trattiene un centesimo di decima ma allora come funziona la chiesa ti chiedo possiamo derubare Dio anche nelle offerte rileggo Malachia capitolo 3 verso 8 un versetto molto importante un uomo deruberà Dio eppure voi mi derubate e poi dite in che cosa ti abbiamo derubato risposta nelle decime e nelle offerte e si può dire se Fresno non tiene alcuna decima come funziona finanziariamente la chiesa bene la nostra chiesa ha un budget annuale di circa 300.000 dollari è il budget annuale per la chiesa centrale di Fresno ma non possiamo usare la decima perché non resta qui dobbiamo pagare varie cose ve le elenco utenze assicurazione posta telefono materiale evangelistico ufficio telefono segreteria custodia fotocopie materiale sabbatico fiori ministeri giovanili esploratori scuola biblica di vacanza servizi comunitari riparazioni sussidio scolastico assistenza lezioni spese dipartimentali eccetera quindi come può funzionare finanziariamente la chiesa centrale di Fresno senza la decima nel modulo della decima c'è una riga con scritto budget della chiesa e quei soldi restano tutti a Fresno ogni centesimo per il budget della chiesa resta nella chiesa centrale di Fresno e viene usato per tutte quelle cose che ho elencato per pagare le spese della chiesa centrale di Fresno quando restituite la decima non avete dato un centesimo perché non è vostra la decima appartiene al Signore noi non paghiamo la decima noi restituiamo la decima da noi ritorna a Dio cioè non siamo generosi nel restituire la decima perché la decima non è nostra capite? è nelle offerte che mostriamo la nostra gratitudine a Dio in particolare quando sosteniamo il ministero della nostra chiesa la chiesa di Fresno è perennemente indietro nel suo budget di chiesa a volte quando arriviamo al mese di ottobre o novembre il nostro tesoriere non ha più soldi stessa cosa per il nostro presidente della commissione finanziaria gli dico sempre viviamo per fede non per paura e tutti gli anni negli ultimi 15 anni abbiamo operato in attivo io dico non preoccuparti il popolo di Dio se la caverà perché molte persone saldano i conti alla fine dell'anno ma non dovremmo funzionare in quel modo se tutti nella chiesa contribuissero con una certa percentuale del loro reddito non solo il 10% della decima ma una certa percentuale del loro reddito al bilancio della chiesa non avremo dei debiti saremo in attivo per tutto l'anno ma tendiamo a ritardare e abbiamo altre priorità rispetto alla casa di Dio alla chiesa ora dirò alcune cose sulle offerte Dio vuole che noi siamo donatori disciplinati non vuole che facciamo come fanno molte persone quando i diaconi raccolgono le decime e le offerte oh è il momento delle offerte così si cercano monete o uno o due dollari per metterli nel piatto delle offerte questa è offerta indisciplinata Dio non vuole che diamo in quel modo ma vuole che siamo donatori pianificati prima Corinzi capitolo 16 verso 1 e 2 ora quanto alla colletta che si fa per i santi fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia non riguarda solo i Corinti ma anche altre chiese ogni primo giorno della settimana cioè regolarmente è il primo principio ogni primo giorno della settimana cioè appena potete dopo il lavoro di venerdì e il riposo del sabato per calcolare quanti soldi avevano guadagnato la settimana prima ciascuno metta da parte per conto suo e il secondo principio individualmente ciò che può in base alle sue entrate terzo principio non essere un donatore di emergenza in chiesa fallo a casa e poi portalo in chiesa poi dice ciascuno metta da parte per conto suo ciò che può in base alle sue entrate proporzionalmente come Dio ti ha benedetto quattro principi regolarmente individualmente privatamente a casa e proporzionalmente affinché non si facciano più collette quando verrò dobbiamo solo chiarirci le idee ok darò questa percentuale del mio reddito per il budget della chiesa la decima non si tocca non è nostra noi decidiamo di restituirla al Signore ma nelle offerte dobbiamo pregare e chiedere al Signore cosa hai fatto per me? bene mi hai dato tutto sei un Dio meraviglioso quindi fammi restituire in offerte secondo ciò che hai fatto per me e poi prega a Dio e chiedigli di rivelarti quale percentuale mettere da parte per il budget di chiesa capite? seconda Corinzi capitolo 9 verso 6 e 7 or questo dico chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore è una decisione personale Dio non chiede di quei soldi Dio vuole il nostro cuore e quando ha il nostro cuore ha i nostri soldi capite? ecco perché Gesù ha detto poiché dov'è il vostro tesoro là sarà anche il vostro cuore ora leggiamo il versetto 7 ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore non di malavoglia né per forza cioè per obbligo perché Dio ama un donatore allegro cito una dichiarazione di Ellen White Testimonianze per la Chiesa volume 1 pagina 5 e 4-5 Dio non vuole alcuna offerta involontaria nessun sacrificio urgente coloro che sono completamente convertiti e che apprezzano l'opera di Dio daranno allegramente quel poco che gli viene chiesto considerandolo un privilegio da riversare noi non diamo per essere benedetti noi diamo perché siamo benedetti Luca capitolo 6 e verso 38 date e vi sarà dato una buona misura pigiata scossa e traboccante vi sarà versata in seno perché perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi proverbi capitolo 3 versi 9 e 10 cito onora l'eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto per sapere se è vero devi provarlo a causa dell'economia lo stipendio nella conferenza pastorale della California centrale è diminuito del 3% così ho deciso signore il mio stipendio è stato ridotto del 3% aumenterò il mio budget di chiesa del 3% il signore mi ha benedetto immensamente più di quanto potessi dire così non usiamo la scusa che l'economia va male e non ho soldi dobbiamo comprare la pizza giusto? e comprare vestiti e cose che non ci servono giocatoli eccetera è solo una questione di priorità e chi fa di Gesù Cristo il primo l'ultimo e il migliore è il più felice del mondo la chiesa e la predicazione del Vangelo sono importanti per noi questa deve essere la priorità numero uno mentre ordiniamo le nostre finanze su questo mondo sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni grazie a tutti Grazie a tutti